Che il sistema calcio sia ormai giunto al collasso è un assunto lapalissiano ma lo scontro tra Lega DB e FGC è ormai frontale e paradossale allo stesso tempo. Innanzitutto è slittata la presentazione dei calendari di Serie B e la Lega resta sempre convinta che il campionato sarà a 20 squadre. Purtroppo non avendo ottenuto risposte serie dalla federazione in merito al nome della ventesima squadra per completare gli organici, ha annullato l'evento di lunedì a Cosenza. La replica piccata e definitiva della FGC non si è fatta attendere dichiarando che le disposizioni non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre nella stagione corrente. La federazione lo ha ribadito alla Lega DB invitandola di nuovo a trasmettere le certificazioni per esaminare le domande di integrazione dell'organico A22. Siamo ormai alla guerra aperta e poco velata tra le parti che va al di là dei ripescaggi. La stessa FGC sembra che preferisca aspettare la sentenza sul ricorso dell'Avellino e quella del collegio di garanzia del CONI a cui si rivolgeranno Ternana, Provercelli, Magare Siena e proprio la federazione forse già venerdì prossimo. Questo per evitare il forte rischio di dover poi riammettere l'Avellino come ventitresimo club o di incassare il ricorso del Siena che se i biancoverdi rientrassero tra le 22 cancellerebbero un posto per le ripescabili. Intanto in via Rossellini a Milano non si fanno passi indietro. Il 10 luglio l'assemblea della Lega DB aveva votato. Il blocco dei ripescaggi a 20 squadre all'unanimità, unica società assente, il Palermo e il consiglio direttivo ieri ha tenuto la stessa linea. Regolamenti alla mano il taglio però non regge poiché la FIGC riferendosi a quanto stabilisce l'articolo 50 delle norme organizzative interne eppure alla giurisprudenza del collegio di garanzia del CONI quando si espresse nel 2014 sul caso Novara. Anche in quel caso le società votarono il blocco, un'ipotesi che fu prontamente bocciata dalla giustizia sportiva. Si va comunque per le lunghe e anche il via del campionato, fissato per il 24 agosto, è in serio pericolo.